Benvenuto da Riccardo Di Gasparro in questo breve video di spiegazione sulla qualità, sull'incredibile qualità dei prodotti Ariks. Ti farò vedere certificazioni, registrazioni, insomma un po' di tutto, quindi fai molta attenzione perché c'è veramente tanto da sapere. Entriamo subito nel vivo. Il Gold Standard di Ariks. Il sigillo di qualità Ariks è il Gold Standard che simboleggia il nostro impegno a essere sempre i migliori nel settore. Scegliendo Ariks si scelgono prodotti all'avanguardia e la tranquillità di sapere che tutti i brand sono sottoposti a controlli minuziosi, dagli ingredienti alle formule fino alla fabbricazione. Chi acquista prodotti Ariks acquista veramente il top del top. Certificazioni e registrazioni. Ce ne sono veramente a valanghe, insomma ce ne sono veramente tantissime. Qualità superiore. Ariks prende seriamente la scienza e gli standard che sono la base dei suoi brand. Ricerca estesa, controllo, qualità e misure di sicurezza sono gli ingredienti chiave nella realizzazione di ogni articolo. Inoltre i nostri scienziati e sviluppatori dei prodotti seguono processi rigorosi per garantire che i clienti ricevano il valore e i benefici più alti. Questa è veramente una cosa molto importante, un'attenzione molto grande che Ariks riserva a tutti questi processi. Entriamo nel dettaglio. La Global Sport Nutrition Informer Sport. Questa è molto importante perché è un ente che garantisce a tutti i consumatori che tutte le materie prime, gli integratori, con il suo logo appiccicato sopra, abbiano superato un processo rigoroso di certificazione per assicurare che i prodotti non contengano sostanze vietate. Questo è molto importante soprattutto per gli sportivi. Garantisce che ogni lotto è stato testato da LGC Labs. Tutte queste informazioni potete prenderle, puoi prenderle anche su internet andandoti a documentare tu personalmente. E pubblica le certificazioni online così che siano aperte a tutti. Molto bella questa come cosa. I prodotti attualmente certificati sono quelli che leggi. Attenzione, i prodotti attualmente certificati ad oggi, magari in futuro, tutte queste liste saranno aggiornate. NSF International Certification. Anche questa molto famosa nel settore, molto conosciuta negli Stati Uniti. Infatti, NSF International è riconosciuto come ente indipendente di certificazione degli integratori alimentari, leader nel settore degli Stati Uniti. È un processo di certificazione veramente rigorosissimo e include verifiche in loco regolari, revisioni della documentazione, test periodici sui prodotti, insomma chi più ne ha più ne metta. Garantisce quindi che i prodotti contengono effettivamente quanto indicato sull'etichetta. Conferma che i processi di fabbricazione soddisfino gli standard GMP più rigorosi. È quella la solita lista che stai vedendo, come anche prima, dei prodotti attualmente certificati. PDR, il prontuario PDR, è un registro annuale dei farmaci e prescrizione e altri prodotti per la salute, studiato per fornire ai medici tutte le informazioni necessarie sulle prescrizioni. Anche questa è una cosa molto importante. Consumer Lab, anche questa è un'altra bomba, una cosa molto importante, perché è il fornitore principale di risultati di test indipendenti e di informazioni per aiutare i consumatori e gli operatori sanitari a identificare i prodotti di miglior qualità per la salute e la nutrizione. La Consumer Lab verifica quanto riportato sulle etichette, pubblica i risultati e i criteri standard di qualità ed esegue test in cieco ogni 12 mesi su un campione preso a caso e acquistato sul mercato. Anche questa è un'altra certificazione molto importante, un sigillo molto importante, perché conferma che tutti i prodotti siano privi di sostanze chimiche tossiche o nocive e che i processi produttivi aziendali soddisfino criteri rigorosi. È la migliore fonte pubblica di informazioni sulle sostanze chimiche tossiche presenti nei prodotti di bellezza per la cura della persona. Una bomba! Buone prassi di fabbricazione, inutile aggiungere ulteriori dettagli sulla GMP, la conosciamo veramente tutti e tutti i prodotti Arix sono prodotti secondo le GMP. Altre cose molto importanti, cruelty free, nessun test sugli animali, questa è una certificazione riconosciuta a livello mondiale e premia la cruelty free le aziende che adottano pratiche produttive che si impegnano a rispettare gli animali, il mondo animale. Marchio PETA, Beauty Whiteout Bunnies, è un ulteriore impegno a non condurre test sugli animali e Arix è una delle poche aziende di vendita diretta che può esibire con orgoglio questo marchio. Questi programmi di certificazione riguardano ovviamente tutti i prodotti Arix. Certificazioni alimentari rigorose, neanche a dirlo, Heart Kosher, Islamic Service of America, ne abbiamo veramente tantissime. I prodotti Arix sono di una qualità incredibile, chi acquista prodotti Arix acquista veramente la qualità. Strategic Partners, questi tutti i test, questi laboratori seguono dei test generali sui prodotti da certificare, guardate quanti ne sono, c'è da fare ricerca per 18 anni su tutti questi, qui ce ne sono veramente tantissimi. Altri partner strategici sulle dichiarazioni dell'etichetta, altri partner su test speciali, per il glutine, l'indice glicemico, certificazione standard e richiesti, i nostri partner operano secondo gli standard più elevati del settore e le certificazioni richieste, queste altre cose. Ancora, insomma, la qualità dei prodotti Arix è veramente elevatissima, abbiamo tantissime certificazioni, sicuramente in futuro saranno aggiornati, sarà aggiornato, insomma, un po' tutto, saranno inserite molto probabilmente altre certificazioni, ci saranno altri aggiornamenti. In ogni caso, se già oggi che stai guardando questo video, non so quando lo guarderai, hai visto già tutta sta roba, il buongiorno si vede dal mattino, stiamo parlando di un'azienda seria, di un network marketing serio, che è il Network Arix, e stiamo parlando di un'azienda che ci tiene veramente tanto ad offrire prodotti di elevatissima qualità a tutti i distributori e clienti che decidono di provarli, che decidono di inserirli nella propria vita. Quindi, se vuoi acquistare i prodotti Arix, o comunque vuoi fare qualche domanda, controlla quello che trovi scritto, o sotto, o sopra. Questo video, in base a dove lo vedrai, perché magari lo pubblicherò su Facebook, magari su YouTube, non lo so. Comunque controlla nella descrizione, ok? Leggi la descrizione perché lì ci sono i passi da seguire se vuoi metterti in contatto con me e col mio team per acquistare i prodotti Arix, provarli o semplicemente chiedere informazioni. Quindi, leggi bene tutto con attenzione. Ci vediamo al prossimo video sul mondo Arix. Da Riccardo Di Gasparo, tutto alla prossima. Ciao!